Oggi si parla di patologie digestive e anche intolleranze alimentari. Qual è la situazione e in modo specifico in Toscana? Malattie digestive sono, dopo le cardiovascolari, quelle a maggiore prevalenza, quelli che impegnano più i nostri ambulatori ma anche i reparti di degenza. La intelligenza di intolleranza alimentare è una tematica emergente in cui c'è molta sensibilizzazione da parte dei media e dell'opinione pubblica e poca scienza, vuol dire. C'è una serie di test disponibili non molto validati e quindi c'è molta confusione anche nel paziente che soffre di disturbi e spesso li associa alla patologia all'alimentazione in effetti perché l'alimentazione e il fatto di mangiare induce l'attività dell'intestino e induce i sintomi dove ci sono dei disturbi che noi chiamiamo funzionali. Ci sono però dei dati che mostrano tendenze di aumento di questo tipo di patologie o delle intolleranze oppure no? In effetti sì, c'è in generale un aumento dei disturbi digestivi cosiddetti funzionali se pensiamo alla distensione, alla digestione lenta, alla stipsi. In molti di questi probabilmente c'è una componente alimentare e l'alimentazione ormai così diversificata, vuol dire anche poco controllata, che sicuramente può indurre in alcuni soggetti dei disturbi. Forse ci sono delle abitudini sbagliate anche nell'infanzia e nell'adolescenza, il fatto di introdurre troppo precocemente gli alimenti quando la permeabilità, la barriera dell'intestino non è ancora matura e quando il sistema immunitario non è ancora maturo può esporre negli anni avanti a delle intolleranze verso specifici alimenti. Ad esempio qual è l'alimentazione? Beh, gli alimenti che danno più spesso intolleranze sono i molluschi, i crostacei, le arachidi, le noci, le noccioline e ancora i derivati del latte. In questo caso in realtà si parla proprio di un deficit enzimatico che può essere presente su base genetica o può essere acquisito per effetto di infezione alimentare o per l'effetto ad esempio dell'uso frequente di antibiotici, vorrei dire il maluso frequente di antibiotici che avviene. È possibile trovare una correlazione con il quadro economico-sociale degli ultimi anni e queste patologie? Ma in effetti quello che si ritiene è che l'aumento dell'igiene nei primi anni della vita, che sicuramente è una cosa auspicabile, per certi versi abbia esposto il sistema immunitario ad una minore tolleranza verso l'ambiente, quindi verso la presenza anche negli alimenti come inevitabile di antigeni, cioè di sostanze che sono riconosciute come potenzialmente tossiche o di batteri. Quindi in realtà questo genere di patologie sono più frequenti lì come nelle popolazioni occidentali si è giustamente pensato ad una maggior igiene delle nostre abitazioni, dei nostri ambienti e quindi anche dei ragazzi. Questo paradossalmente ha aumentato questo tipo di problemi. E con la crisi economica? Beh, la crisi economica deve portare a mio parere a vedere nel giusto peso quali sono i test in cui c'è una provata scientificità, cioè quando veramente possiamo dire che c'è un'introganza alimentare ed evitare per certi versi di sprecare denari su alimenti che potenzialmente potrebbero essere magari meno dannosi, in realtà c'è una spinta più dei media o delle aziende produttrici. C'è sicuramente un grosso mercato da parte delle aziende che cercano di farci comprendere o di farci intendere che i loro alimenti sono più ecologici, più biologici, ma in realtà non sempre questo è dimostrato e provato.